Chiusura dell'istruttoria nei confronti di Chiara Ferragni, relativa alla presunta promozione ingannevole di una linea di uova di Pasqua che erano presentate come vendute per beneficenza, è quanto deciso poco fa dall'antitrust. L'istruttoria riguardava la promozione di una linea di uova di Pasqua realizzata dalla società Dolci Preziosi in collaborazione con Ferragni nel 2021 e nel 2022. L'ipotesi accusatoria era, come nel caso dei Pandori, al centro di una simile scandalo e per cui Ferragni è indagata per truffa, che non ci fosse una correlazione diretta tra la vendita delle uova e le donazioni di beneficenza ai bambini delle fate, come invece asserito nelle campagne pubblicitarie fate dall'influencer e imprenditrice cremonese. Con un accordo tra le quattro società al centro del procedimento, due titolari di marchi e diritti legati a Ferragni e Cereali Italia Industria Dolciarie, titolare del marchio Dolci Preziosi, è stato stabilito che 1,3 milioni di euro saranno devoluti all'associazione I Bambini delle Fate, 1,2 milioni di euro da parte delle società legate a Ferragni e 100 mila euro da parte di Cereali Italia. Sempre in queste ore inoltre è stato comunicato dallo staff Ferragni che le società titolari dei suoi marchi separeranno le iniziative commerciali da quelle benefiche. Le stesse società si sono dette impegnate in un percorso di regolamentazione delle proprie attività di marketing e comunicazione. A questo si aggiunge anche la decisione, avvenuta poco fa con relativa notifica degli atti, di rinuncia al Tar del Lazio al ricorso amministrativo con il quale Chiara Ferragni e le società lei riconducibili contestavano il provvedimento con cui lo scorso dicembre l'antitrust ha inflitto una sanzione di oltre un milione di euro per le presunte pubblicità appunto ingannevoli legate alla vendita del Pandoro Pink Christmas.